Ubaldo Pantani, ospite della Notte degli Oscar Tutto Bici, raccontaci la tua passione per il ciclismo. Dunque, io è il mio secondo sport, sono nato e cresciuto in Toscana, in una zona dove vengono le squadre professionistiche ad allenarsi. Sono nato a Cecina, pensa, come il grande Diego Ulissi, e sono felice di essere qui. Il ciclismo l'ho seguito sin da bambino, gli amici di famiglia avevano una squadra giovanile e dilettantistica, quindi l'ho seguito, si andava a seguire le corse, o meglio, dietro alle corse, è la dicitura precisa. Mi sono molto divertito, poi grande appassionato di palline, i miei amici erano Algeri e Cavalcanti, che avevano una rivalità tipo Moser e Saronni e mi sono divertito per anni e anni a farli sfidare sulla sabbia, su tutti i terreni. In bici ci vai? Ci vado quando posso d'estate, sono un ottimo scalatore, lo dico così, un ottimo scalatore. Poi come sport ho sempre fatto in realtà il calcio, che ho sempre amato, ma non sono stato mai abbastanza ricambiato, perché sono stato un dilettante, però il ciclismo d'estate, quando posso vado. Con le imitazioni dei corridori come te la cavi? C'è qualcuno? Qualcuno ci sarebbe, secondo me, che parlano un po' alcuni come gli sciatori degli altotesini, sono sempre un po' rigidi. Qualcuno stasera lo studio, insomma. Grazie a voi.